Buongiorno da mattino 6 per questo Mercoledì 12 aprile, oggi si ricorda San Zeno Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro Sequestrate due tonnellate di marijuana La droga era destinata al mercato della costa abruzzese Un arresto E poi centropagine al trionfo della Juve di Balagliaumilia Messi Nelle cronache della provincia di Pescara Montesilvano Rapinatore preso dall'ex campione De Benedictis Ace pagati, alcol nel camino, uscionate madre e figlia E poi la tragedia di Farindola Rigopiano, ricordi e macerie per la prima volta Dopo la valanga tra i resti dell'hotel crollato All'interno Trump avvisa Corea del Nord cerca guai Agiremo da soli L'economia dececco verso la quotazione in borsa Titoli del centro Nelle cronache dedicate alla provincia di Chieti Avvasto, casa di riposo, gestori accusati di omicidio Chieti macchinario in tilt Si ferma a radioterapia Andiamo avanti Le cronache dedicate alla provincia di Teramo Pena di 18 mesi Rubba l'azienda per cui lavora 450 mila euro Il processo, l'ex Tercas Banca Popolare di Bari Chiede i danni Cronache della provincia di L'Aquila Cento nuovi posti di lavoro con i call center E poi a Sulmona le vendite online Per salvare i piccoli negozi Titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero Nelle cronache dedicate all'Abruzzo Rigopiano, la valanga prevedibile Dopo il sopralluogo di ieri nell'area della tragedia Il consulente tecnico Francesco Stoppa Esclude l'evento eccezionale E collegamenti con il sisma Crolla un alibi per i futuri indagati Donne nel mirino Indagini a Teramo Picchiata dal compagno Perde il bimbo E poi l'Aquila La corsa di Benedetto Esito incredibile Il risultato delle primarie Del centro-sinistra Interroga il PD Il sostegno della pezzo pane A Giulianova Due tonnellate Nel deposito di marijuana Pugliese in manette La droga nascosta Fossa Cesia Di spalla io Atleta e trapiantato Dico donate gli organi Di taglio alto il personaggio Ragazzi dite no alle spintarelle La lezione di Donaniello Lanciano Scandalo Asl Processo in arrivo Per Colasante Altri cinque La serie A L'attesa dei campioni Pagano il mio gol La Juve porterà fortuna Al Pescara Titoli di apertura del quotidiano La città Brucchi costretto A chiedere aiuto Al PD Tancredi In vista del Consiglio del Venti Il responsabile Gettare alle ortiche La casa dello studente A centro pagina La sottile linea verde TV e turismo Rai 1 Dedica la puntata di Pasqua Al Terramano Delegati alleanze Edente Porto Zuffe tra i democratici Zampino di Monticelli Sulle liste Vittoria di Sottanelli All'Aquila Fanno saltare il confronto Cronaca a Tortoreto Si allarga l'inchiesta Sul carabiniere Gli indagati Salgono a 10 E poi L'analisi Tre possibili epiloghi Per l'ennesima crisi Sempre riferimento Alla giunta Brucchi Pista ciclopedonale A Roseto Si va avanti A tappe forzate A Silvi c'è da buttare giù Un ponte Maltrattamenti Atri Cane abbandonato In un bidone Di taglio alto Recuperati 80 mila euro Dal bancomat Tercas Fallito il colpo Della banda della marmotta Giulianova Sequestrate due tonnellate Di marijuana Ora invece andiamo a vedere I titoli di apertura Dei quotidiani nazionali Iniziamo dalle pagine Del Corriere della Sera In apertura Inchiesta Consip Ora si indaga Su altri depistaggi Scontro tra PM Il brindisi Di papà Renzi E poi Titoli di apertura La Repubblica Manovra Altri tagli Ma meno tasse Juncker dice Italia Sulla strada giusta Intervista al presidente UE Impensabile che Roma Stia fuori dall'euro La stampa a reddito Di inclusione Per i poveri E poi Il giornale Bombe Sulla Champions Salta Borussia Monaco Paura Terrorismo in Germania Tre esplosioni davanti al bus Un giocatore ferito Il complotto Giudiziario Sospetto dei Renziani Papà Renzi Incastrato Dal clan Di Napoletano Istruttoria contro L'anatocismo Mega interessi Perquisite tre banche Nel mirino Dell'antitrust BNL Intesa E Unicredit Andiamo avanti Il fatto quotidiano PD contro la destra Tutti all'assalto Contro Report Il servizio sull'unità Bonifazi dice Querelo E poi L'inchiesta Romeo Enco Woodcock Conferma Fiducia al Noe E Roma Tira dritto Su Consip Paura Lo stadio Dortmund Bombe Contro il Pullman Del Borussia Il panico In Champions Libero Titola L'offesa Illegittima La difesa Illegittima Il paradosso Della legge italiana Come al solito La politica Decide sull'onda Dell'emotività Il PD Costretto a riscrivere Speriamo Non con i piedi La propria norma Che era favorevole Ai banditi E non risolveva Il problema E poi Il magistrato Che fa tremare Il mondo In i tanti successi Di Woodcock Il PM Del caso Consip Mattarella Controcorrente Stoccomputin Il presidente In Russia Dopo che l'Italia Ha stoppato Le sanzioni Il manifesto Manovra Tutto a posto Niente in ordine Conti pubblici Il governo Approva il DEF E salvo intese La correzione Da 3,4 miliardi E poi Il delitto D'asilo Nessuno Ferma il decreto Minniti Orlando Fiducia al governo E oggi Il voto definitivo Della Camera MDP Si divide Entra nell'ordinamento Italiano Un diritto speciale Ridotto Per chi chiede La protezione Internazionale La verità La verità Titola Babbo Renzi La verità Sul complotto I veleni Del caso Consip I giornali Si sono affannati Ad assolvere Il padre Dell'ex premier In base A una trascrizione Sbagliata Ma gli indizi Che portano a lui Sono parecchi E ci si dimentica Che Lotti È indagato E poi Quando la madia Non copia Si fa bocciare In Europa Ci sono 2 milioni Di espulsi Che nessuno Riesce a mandare via Ogni anno 500 mila fogli di via Viene data esecuzione A meno di metà Chi resta È un pericolo Il tempo Titola Babboio Il verbale Ho saputo Di Tulliani E della casa Monte Carlo A dicembre 2010 Tre mesi Dopo la promessa Fatta in tv Di dimettersi Si è coinvolto Il cognato Ma a fine È rimasto Altri tre anni Alla camera E fino ad oggi Ha tradito Il suo popolo A centropagina Ascensori Pericolosi Nella metro Di Roma Ecco le stazioni Più a rischio I PM Indagano Sugli elevatori L'unità Titola Con le tasche Mezze vuote In chi sta Sui salari In Italia Sono troppo bassi Colpa del cuneo Fiscale Non solo Def 85 euro Agli statali Anche differenze Di genere Per lo stesso lavoro Una donna guadagna 3200 euro In meno L'anno E poi il mattino Caccia ad altri Depistaggi Romeo Scontro tra procure Napoli Conferma Il capitano del Noe Indagato a Roma I PM Capitolini alla ricerca Dei complici Di Scaffarto Saranno Ricontrollati Tutti i verbali E poi la tensione Trump Minaccia La Corea Del Nord Pronti ad agire Il messaggero Consi Paltatensione Tra procure I PM I PM Di Napoli Confermano La fiducia Al carabiniere Indagato Per il falso Verbale Gelo Dei magistrati Romani Indagini Su tutti Dei depistaggi Orlando Dice Caso Inquietante Mattarella Mosca Ora Fermi Assad Putin Dice L'attacco USA Mi ricorda L'Iraq E poi Ok Al documento Di economia E finanza In manovra Più soldi Agli statali Renzi Conferma Calenda Crescita All'1,1% Stop Dell'ex premier Alla norma Antiscorreria Dopo Mediaset L'avvenire Gli schiavi Del 2017 L'OIM Denuncia In Libia Gruppi Di migranti Rapiti E venduti Al mercato Per 200 Dollari E poi Il governo C'è il via Al documento Di economia E finanza E manovra Pili in salita E tasse Ferme La gazzetta Del mezzogiorno Treni Si fa luce Sulla strage In tre Ignorano Le procedure Di sicurezza Causando il disastro E qualcuno Manomise i registri Per nascondere Le responsabilità Passiamo ora A sfogliare Le pagine Del quotidiano Il centro Anzi Iniziamo proprio Dalle pagine Del messaggero Facciamo così In apertura Noi abbiamo visto Che Al centro Dell'attenzione Dei nostri Quotidiani Si parla proprio Di un'operazione Per il sequestro Di tonnellate Di marihuana E questo è successo Ieri A fare il resoconto Le forze dell'ordine Vediamo Sul mercato Dello spaccio Al dettaglio Avrebbero fruttato Almeno 10 milioni Di euro Una montagna Di droga Le oltre Due tonnellate Di marihuana Purissima Suddivisa In pacchi Di circa 20 chili Ciascuno Scovate Dai carabinieri Della compagnia Di Giulianova In un deposito Nelle campagne Di fossacesi In provincia Di Chieti I militari Sono arrivati Al nascondiglio Della droga Dopo alcuni giorni Di peninamenti Seguivano Un 49enne Pugliese Originario Della provincia Di Brindisi Giovanni Carabotti Vecchia conoscenza Delle forze Dell'ordine L'uomo Era stato fermato Nei giorni scorsi Per un normale Controllo stradale Dal personale Di una pattuglia Del nucleo Radiomobile Della compagnia Giuliese Carabotti Viaggiava A bordo Di una potente Auto di lusso E alloggiava In hotel Roseto Degli Abruzzi Nell'ultima settimana Seguendo i suoi spostamenti E' stato accertato Che faceva la spola Proprio tra Roseto E Fossacesia L'uomo dunque Caduto nella trappola Tesa dai carabinieri E li ha condotti Al deposito Quando ha capito Di essere stato scoperto Ha tentato la fuga Innescando Un rocambolesco inseguimento Lungo la Fondo Valle Sangro Una scena da film Che si è conclusa Nei pressi Del casello autostradale Di Val di Sangro Dove i militari Sono riusciti A fermare La corsa Della vettura Procedendo all'arresto Di Carabotti Ora rinchiuso Nel carcere di Lanciano I militari dell'arma Oltre al quantitativo Di droga Trovato all'interno Di un furgone Parcheggiato nel deposito Hanno sequestrato Anche sulla spiaggia Un potente gommone Della lunghezza Di circa 10 metri Con due motori Fuori bordo Della potenza Di 500 cavalli Ciascuno Abbandonato in fretta E furia Da chi evidentemente Aveva trasportato Lo stupefacente Molto probabilmente Dalla rotta balcanica Abbiamo arrestato Comunque Il responsabile Che è un pugliese E segue Recuperato Tutta la droga Che adesso Comunque Dobbiamo Analizzare E Vediamo un attimino Di avere anche Dei risvolti A livello poi Di polizia giudiziaria Anche perché Dobbiamo cercare Non può una persona Comunque gestire da sola Un ingente traffico Del genere Che quasi sicuramente Comunque Proviene dalla rotta balcanica E ora vediamo La stessa notizia Sulle pagine del centro In apertura Il sequestro record Bloccate Due tonnellate Di marijuana Fossa accese Operazione Da 10 milioni di euro L'indagine è partita Da Giulianova Con un arresto E poi Le tante rotte Dei Balcani E la scoperta Dell'Abruzzo Un albanese Già condannato A racconta Diversi percorsi Per aggirare I pericoli E cercare di consegnare Sempre la merce Ma i controlli Ci sono sempre I precedenti Da Avezzano A Pescara La scoperta Di grossi quantitativi Nascosti In capannoni E furgoni E di taglio basso Il dibattito politico Legalizzare sarebbe Saggio Acerbo Del partito Di rifondazione Comunista E Chiavaroli La Marianna Dice Così si batte La criminalità Ancora Sul dibattito Energie risparmiate Controllando La cannabis Rimetti sul territorio Molte forze di polizia Oggi costrette A rincorrere I carichi Legali E poi combattere Le dipendenze Serve una cultura Dell'uso corretto La maggior parte Della gente Convive bene Con alcol E tabacco Lo scontro politico Consipe Unità Scintille PD Movimento 5 Stelle Carte bollate Denunce Dopo l'inchiesta Di report I pentastellati Accusano Domina Il sistema Renzi E di spalla Mafia capitale Requisitoria Dei PM Il 26 Le inchieste Il PM Indaga Sul carabiniere Sotto accusa Per la procura Il capitano Del 9 Avrebbe falsificato Le intercettazioni Si vuole capire Se l'iniziativa Sia personale Il governo E le misure Gentiloni Conti in ordine Senza mettere Nuove tasse Dal consiglio Dei ministri Si a manovra Richiesta dall'Unione Europea E documento Economico Rivista Rialzo La crescita Del PIL All'1,1% Pubblico Impiego Previsti 2,8 Miliardi Poi la scheda Via al turnover Negli enti Terremoto E zone franche Di spalla Le imposte sul lavoro E peso su stipendi Italia è quinta Al mondo E poi arriva la sentenza Tra sfusioni Lo Stato Deve risarcire Vinti ricorsi Per il sangue infetto Centinaia di persone Hanno subito danni La politica internazionale Iventi di guerra Trump avverte La Corea Cerca guai Sale la tensione Tra Washington E Pyongyang Mentre si avvicina La porta aerei Vinson Kim Jong-un Dice pronti A replicare La figlia dice No al velo Il padre La picchia Arrestato a Siena Un 38enne Kosovaro E poi ancora Sulla politica internazionale Con la Russia Ma senza Assad Il vertice Siria Lucca Il G7 Dei ministri degli esteri Mosca Decida Da che parte stare E la visita Al Cremlino Del capo Mattarella Apre il dialogo Con Putin Appello per fermare Il regime siriano Gran consulto Sul nodo Libia Suicida Per video Il giudice Chiede indagini Su Facebook Il magistrato Archivia Le posizioni Dei sei uomini Accusati Il legale Dice la piattaforma Social Fu diffidata Ma non fece nulla Bussi Per la Corte Dei Conti Prevale L'interesse pubblico Lo rivela un documento Interno Del Ministero Dell'Ambiente La dirigente D'Aprile Dice C'è stato spiegato Che non c'è più Controllo preventivo Sugli atti Del commissario Il parere Sulla gara Per la bonifica Del sito Di interesse Nazionale Espresso Il 26 gennaio Scorso Durante un incontro Presso la Sezione regionale Poi ancora Sulle pagine del centro Apriamo quelle dedicate Alla nostra regione L'industria In movimento Dececco Verso la quotazione In borsa L'argomento All'ordine del giorno Dell'assemblea Del 27 E' la terza volta Che il pastificio Mette in agenda Piazza Affari L'ultimo bilancio Consolidato E' stato di 416 milioni Di cui 174 realizzati All'estero A testimonianza Della forte presenza Internazionale Del gruppo Alimentare E poi La politica Ancora Sul sisma E il maltempo Niente fondi Comuni al collasso Forza Italia All'attacco della regione A replicare Balducci Del PD Che dice Sono accuse Strumentali E ieri I rappresentanti Regionali Di Forza Italia Hanno presentato Dubbi E perplessità Proprio Sui fondi Destinati All'Abruzzo Per i danni Del maltempo E del terremoto Tanti punti Che hanno messo Sul tavolo E li abbiamo ascoltati Anche un parallelo Tra quello che avvenne Nel 2009 E quello che è successo Qualche mese fa Vediamo Oggi ho ricordato Che dopo il sisma Del 2009 Passarono Poco più Anzi poco meno Di 20 giorni Prima di ottenere I fondi Dal presidente Berlusconi Si è fatto un parallelo Dopo sei mesi Dal sisma Di agosto Seguito poi Da quello Di ottobre Oggi ci si pone Una domanda Perché è soddisfatto Il governatore Dal fondo Me lo chiedo Me lo chiedo Anch'io Perché il governatore Ha espresso soddisfazione A me sembra Che per fare Qualunque cosa Ci sia bisogno Di stanziamenti Bene Ricordo Che nel 2009 20 giorni dopo Il terremoto Fu uno stanziamento Oggi al di là Di tanti annunci Che vengono Fatti Nessuno si pone La domanda Di quant'è Il reale stanziamento Che c'è Per questo terremoto Che riguarda Quattro regioni Se La matematica Insomma Non è un'opinione Dovrebbe essere Intorno ai 650 700 milioni di euro Stiamo parlando Di bazzecole Quindi come Possa essere Così soddisfatto Il governatore Non lo capisco Capisco invece Che la sua azione È stata insufficiente Forse deve mascherare Questa insufficienza Di peso Del governo regionale E esprimendo Una soddisfazione Che non c'è E che non ci dovrebbe essere Anche perché Provedimenti Che riguardano Il cratere Il fuoricratere In alcuni casi Sono veramente imbarazzanti Non si pongono Alle questioni importanti Vedremo per esempio Che fine farà La situazione Delle tasse All'Aquila Coloro che Ebbero la sospensione Della tassazione Perché danneggiati Hanno avuto la possibilità Di restituirla In dieci anni Però in una misura Assai ridotta Rispetto a quella Che era stata all'inizio Io credo che i cittadini Non possano essere Di serie A e serie B Se nel 2009 Il governo di centrodestra Ha fatto questo Dovrà fare adesso Il governo di centrosinistra Ma di questo Già non se ne parla Mi auguro Che ci sia Per il futuro Una maggiore consapevolezza E soprattutto Una maggiore capacità Di rappresentare Le esigenze Del proprio territorio Piuttosto che quelle che sono Le ritualità Delle soddisfazioni Che servono solo Per accreditarsi Magari in alcuni ambienti romani Cosa farete adesso Per cercare di ottenere Risposte a queste domande? Guardi Il nostro ruolo Sarà quello di incalzare E di chiedere Lo stesso trattamento Che c'è stato per l'Aquila Non siamo un'opposizione Diciamo Alla Grillo Che magari chiede La Luna Perché Poi può sempre Rivindicare Noi chiediamo Quello che è già stato possibile In una determinata occasione Lo vogliamo per i nostri territori Per l'Abruzzo Per la provincia di Termo E anche per i danni Conseguenti alla neve Credo che sia possibile Il governo Berlusconi Ha dimostrato Che lo è Mi auguro Che questo accada Anche per noi Ancora sulle pagine Del centro L'economia Chiuso Il 14% Degli sportelli Bancari Il dato dell'incontro All'annuncio Con il presidente Federcasse Pino Maur L'economista Dice occhio Al protezionismo In riferimento Ovviamente Al governo E poi L'Abruzzo Alvinitali 2017 Passerine Pecorino In bianchi Alla moda Che scalano Le vendite Sono al secondo E quarto posto In Italia Per incremento Le novità Di Cantinatollo Fedeuccio Monti Citra E la Valentina E poi La rappresentanza Regionale Dimezzata Per la difficile Annata Olio extravergine Solo in 15 Negli stand Di Solagri Food La sentenza Del Tari Trasporti Via libera Nuove corse Annullata La delibera Contro di Carlo Bus La regione Non può dire no Sanità e politica Movimento 5 Stelle Dice no Ai project financing Per costruire Gli ospedali Visco il nostro sistema Tiene Il governatore Banchi Italia Dice non siamo Bomba orologeria Tre istruttorie Antitrust E per la telefonia Arriva Vodafone TV Film, news e serie Per tutte le famiglie A Pescara Rigopiano Macerie Pianoforte Ecco l'hotel Distrutto per la prima volta All'interno del luogo Stravolto dalla Valanga Sopra il luogo Dei consulenti La slavina Si poteva prevedere Domani video In onda su Rete 8 E poi incontro In piazza Muzzi Landini Il sindacato Deve cambiare Il segretario Della FIOM CGL In città Per presentare La carta dei diritti Del lavoro Si alza e nato Fanno i furbi Siamo pronti E poi il mercato Di via Pepe Salta per la partita Antonelli Di Forza Italia Dice il comune Vieta le bancarelle La mattina del 24 Perché la sera Si gioca Pescara Roma Banche dati e laboratori Per la lotta Alle false griff È stato firmato L'accordo Tra comune E agenzia Delle dogane Per potenziare I controlli disponibili Sui nuovi strumenti Per verificare La provenienza Della merce Sospetta E allora Dopo le polemiche Dei giorni scorsi Proprio su I venditori ambulanti E sulla merce Contraffatta Ieri Il comune di Pescara Ha presentato La firma Di un protocollo Proprio per monitorare In maniera più capillare Il territorio Noi c'eravamo Vediamo La lotta alla contraffazione Se ne è parlato Anche nell'ultimo weekend Quello del comune di Pescara In questo caso C'è un accordo Insieme all'agenzia Delle dogane Quali saranno I procedimenti adesso? Noi vogliamo Con questo accordo Fare un passo in avanti Rispetto a quelle Che pure sono Le previsioni Della legge Vogliamo specificare Una collaborazione Diretta e continuativa Con l'agenzia Delle dogane Nei confronti Del fenomeno Della contraffazione Che è un fenomeno Visibile a Pescara E non solo Naturalmente Facciamo quindi Questo accordo Che in via sperimentale È stato assunto In grandi città Penso in primo luogo A Roma Per naturalmente Dare una risposta Immediata Sensibile Percepibile Da parte del sistema Istituzionale Rispetto ad un fenomeno Quello della contraffazione Che altera le regole Del mercato E che naturalmente Deve avere delle risposte Vogliamo agire Sul duplice fronte Della repressione Come pure Già stiamo facendo Ma anche Della prevenzione In qualche modo Per indurre in primo luogo Per indurre in primo luogo Le persone I cittadini A non acquistare Prodotti contraffatti Perché non rispondenti Alle previsioni di leggi In talunni casi Possono essere pericolosi Pensiamo solo Alle frodi E alle sofisticazioni alimentari Visto che ce le mangiamo Letteralmente E quindi oggi Mi sembra Una giornata importante Di collaborazione Interistituzionale Rispetto ad un problema Che ha portato a vasto La polemica del centro-destra Era anche quella Dei venditori ambulanti Sul lungomare In questo senso Ci saranno degli interventi Per vedere Quelli che sono I fenomeni sul territorio È ovvio Che questo nostro Accordo con l'Agenzia Delle Dogane Serve proprio A rafforzare Il sistema sanzionatorio Significa fare Attività congiunte Anche con l'Agenzia Delle Dogane Nei confronti Di un fenomeno Che naturalmente Merita risposte Per le ragioni Che dicevo prima Di alterazione Delle regole Del mercato Per fare in modo Che chi paga Le tasse E chi Diciamo Commercia Onestamente In qualche modo Non venga pregiudicato Da forma di concorrenza illecita Ancora sulle cronache Di Pescara Crolli a Fosso Grande Partono i lavori Sopraluogo Sulle sponde Colpite dallo smottamento Di gennaio In arrivo Le gabbie Di contenimento Poi Italia Nel cuore Candida Camerino Il nuovo partito Costituito nel 2016 Scenderà in campo Alle elezioni Politiche L'ASL taglia I fondi Bimbi autistici Senza terapie Due ragazzi Di nove anni Hanno bisogno Di assistenza cognitiva Con il metodo ABBA Ma le famiglie Non possono Sobbarcarsi I costi L'SOS Del presidente Lemme Di spalla Ancora sanità Salute delle donne Dal 18 La settimana Della prevenzione Il memorial Il memorial Pannella La poliandri La cantante Rosetana Vince la finale Regionale Del festival Della melodia E poi il fieno Per gli allevatori La polizia Di Pescara Ad Amatrice L'open day All'università D'annunzio Design Boom Di iscrizioni Scatta il numero Chiuso L'università Spalanca le porte Alle matricole Per la giornata Di orientamento Alla scelta Della facoltà Circa 600 studenti In città Ed è stata istituita La summer school L'economia E laureati Sì ma senza Pergamena Un centinaio I dottori Che dovranno Attendere La nomina Del rettore Per il fatidico Pezzo di carta Ancora cronaca Un dramma Villanova Dice Pagatti Alcol nel camino Ustionate Madre e figlie Entrambe Hanno riportato Ustioni di secondo E terzo grado Sulla metà Del corpo Intervento Della polizia Trentenne Ruba Doviesse I dipendenti Lo fanno Arrestare E poi Partorisci In casa Con l'aiuto Del 118 In via Vestina Montesilvano La mamma Una 28enne Senegalese Era in travaglio Avanzato A Montesilvano Rapinatore Bloccato Da De Benedictis Giovane Del Gambia In seguito E preso Dopo il tentato Colpo alla gelateria Il chicco d'oro Dal campione olimpico Il brigadiere Medaglia di bronzo Il fuggitivo Ha corso Per 800 metri Lungo via Trieste Prima di crollare A terra Esausto Davanti al sotto ufficiale Che l'ha bloccato Lavori utili Per chi si trova In difficoltà Comune Azienda speciale Sottoscrivono Un'intesa Per favorire I progetti Di inclusione Sociale E poi ancora Montesilvano Il master chef D'Israele Premiato A casa sua Da Gerusalemme Porterà Turisti Il cuoco Montesilvanese Testimonial Dei sapori D'Abruzzo Nel mondo Scurriamo ancora Le pagine Del centro Strada piena Di bucche Vietata Alle due ruote Esplode La protesta Cepagatti Ordinanza Della provincia Nibisci Il transito A bici e moto Le società sportive Ciclistiche Dicono Qui ci alleniamo E poi Un ladro di rame Scoperto E fermato Da un carabiniere Fuori servizio Il furto E' stato scoperto In un cantiere Per l'illuminazione In Biale Alcione Dove il militare Stava passando A bordo Della sua auto A Francavilla Un corso gratuito Per balneatori E poi Di taglio basso Cercasi Asilo Per bimbo Di 21 mesi C'è pagato L'SOS Dei genitori Il piccolo Ha una sindrome Metabolica E deve seguire Una dieta rigorosa Appenne Marconi La regione Troverà i fondi D'Alfonso Prende l'impegno Di ristrutturare L'istituto In parte crollato Il ministro Fedeli Sosterrà Questa causa E poi Tasse più salate Protesta All'opposizione Popoli Consiglieri Lattanzio E Combatelli Denunciano Aumenti Su menze Scuolabus E cimiteri La grande impresa Di Iovoli Ora nella boxa Mondovì L'atleta Di tocco Da casauria A manopello Defibrillatore In dono Per la scuola Di calcio Cronache Su Chieti Radioterapia Al policlinico Macchinario Si rompe Il reparto Scoppia Crescono Le liste D'attesa 700 pazienti L'anno A fronte Di 1300 Domande Il primario Genovesi Dice Nessuno Perde le cure E a Lanciano Bacinovic Sconta Quattro mesi Ai lavori Socialmente Utili Per guida In stato Di ebrezza Vasto Anziani Maltrattati E deceduti Gestori Accusati Di omicidio Si parla Del caso Della casa Di riposo Lager In taglio Basso L'allenatore Di baseball Resta in carcere A Chieti Il riesame Non concede Domiciliari All'uomo Accusato Di violenza Sessuale A danno Di minori All'Aquila Dopo le primarie Il PD La fine di un'epoca La vittoria Del Renziano Di Benedetto Spacca La classe Dirigente Dem Tra veleni E ripicche A parlare Anche Pietrucci Che dice Sono stato lasciato Solo il candidato Sconfitto Ma se Americo Aprirà un rinnovamento Sono pronto A candidarmi E allora Come detto Grandissima L'affluenza All'Aquila Per il voto Delle primarie Un risultato Forse inatteso Questo il reso conto Nel nostro servizio Il presidente Della società Aquilana Sul ciclo idrico Integrato Gran Sasso Acqua Americo Di Benedetto Del PD E il candidato Sindaco Del centro-sinistra Alle elezioni Amministrative Dell'Aquila Del prossimo 11 giugno Il 47enne Commercialista Ha vinto a sorpresa Le primarie di coalizione Che si sono concluse Ieri sera Sul favorito Il consigliere Regionale Del PD Pierpaolo Pietrucci Che alle elezioni Regionali Del maggio Del 2014 Ha ottenuto Oltre 7000 voti Circa 700 I voti Di scarto A favore Di Benedetto In una consultazione Durata due giorni Che ha fatto registrare Un'affluenza record Oltre 10.000 persone In tal senso Sono divampate polemiche Sul fatto che Al voto aperto A tutti i residenti Dai 16 anni in poi Abbiano partecipato Diversi esponenti Del centro-destra E che questi voti Siano stati determinanti Per il successo Del commercialista Aquilano Che in giovane età È stato sindaco Di Acciano Comune della valle Subequana Della quale È originaria La sua famiglia La coalizione di centro-destra Divisa da due mesi In più gruppi Non ha ancora trovato La unità E il candidato sindaco Singolare il fatto Che ieri sera Poco prima delle 20 Piusura del voto Il possibile candidato Del centro-destra Il giornalista Luca Bergamotto In giovane età Consigliere regionale Di Forza Italia Si è ritirato Da lagone politico Oltre ai due candidati Del PD Alle primarie Ha partecipato L'ex assessore comunale Al bilancio Lelio De Santis Coordinatore regionale Dell'Italia dei Valori Noi dobbiamo lavorare Al programma Che è la cosa più importante Ed il programma Sarà frutto di questi giorni Di lavoro Molto molto precisi E puntuali E dovremo elaborarlo Nella maniera tale Che possa essere condiviso Prima dai cittadini Che dalle parti politiche Per presentarci poi a giugno Nella maniera Diciamo più opportuna possibile E cercare di vincere poi La vera competizione elettorale Che è quella che Designerà il nuovo sindaco Della città dell'Aquila Poi sono contento Nello specifico Perché Amerigo Di Benedetto È il mio candidato L'ho sponsorizzato Ho cercato di dargli una mano E quindi lo conosco da anni Sono molto contento Che lui abbia vinto queste primarie E penso che sia anche Il sindaco ideale Per l'Aquila Perché è una persona Certamente onesta Seria Competente Ad Amerigo Di Benedetto Già avevo detto Che saremo stati presenti All'Aquila Come Abruzzo Civico Quindi La lista Porterà anche il suo cognome Abruzzo Civico Per Di Benedetto Sindaco E ora sulle cronache Di Teramo Dipendente infedele A giudizio ruba 450 mila euro All'azienda per cui lavora Appena di 18 mesi Patteggia l'impiegata Di una piccola società Di Giulia Nova Accusata di furto Con i soldi Avrebbe anche comprato una macchina La scoperta Durante l'amministrazione Controllata La Corte dei Conti Cita un medico Per un danno Da 150 mila euro Ricette illegittime Alla piccola opera Caritas Di Giulia Nova E poi l'ex Tercas La Popolare di Bari Vuoli danni L'istituto Pugliese Chiede la missione Di parte civile Nella causa Per la presunta Truffa Delle azioni Di spalla Il terremoto Per le opere urgenti Già speso oltre Un milione A Teramo L'udienza Per i 28 imputati E' stata rinviata Il 25 settembre No scusate Questo sempre nel caso Tercas Allora noi ci separiamo Per una piccola pausa E poi torniamo Con la seconda parte Della nostra rassegna stampa Tra poco Seconda parte Della nostra rassegna stampa Ora iniziamo a sfogliare Le pagine del messaggero La qualità dei vini E il territorio Il binomio del riscatto Abruzzese Al Vinitali Cresce La richiesta Dei nettari Autotoni Mentre a farla da padrone E' il richiestissimo pecorino Il Montepulciano D'Abruzzo Conferma il suo appeal Sui mercati Internazionali E poi In sisma C'è l'ordinanza Contributi fino al 100% L'emergenza Il provvedimento Stabilisce le modalità Per ricostruire edifici Danneggiati Dall'ultima crisi A Pescara La task force Estiva contro Le false griff La caccia ai venditori Di articoli Contraffatti Più agevole Grazie al protocollo Tra la polizia municipale E le dogane Gli agenti Avranno accesso diretto Alla banca dati Falstaff Per accertare Provenienza E caratteristiche Della merce Sospetta Il comune Preoccupato Per l'aumento Stagionale Del mercato Dei tarocchi Alessandrini Ha dichiarato Un danno Per il commercio E anche Per la salute In questo caso Si parlava Di alimenti Contraffatti E poi Lo shopping gratis In fuga Con i vestiti Rubati Arrestato Dalla polizia Dopo il colpo Da OVS E le placche Antitaccheggio Tolte Nei camerini L'allarme Lanciato Dal personale Manette olimpiche Il rapinatore Il marciatore Che sprint E poi La sala Ternum Sarà un mini museo Questa è la versione Di Pagnanelli La bella copia Vuole che il progetto Sia immancabilmente Più ampio E spazioso E che il rifiuto Del nuovo presidente Del consiglio comunale Francesco Pagnanelli A installarsi In una stanza museo Per di più Con qualche problema Di climatizzazione E umidità Sia in realtà Il via Alla riqualificazione Della sala Ternum Sede Dell'ufficio Di presidenza Domanganiello Ai ragazzi No alle raccomandazioni La lezione Del prete Anticamorra L'istituto Alberghiero De Cecco La corruzione Morale È un male Endemico Della società Rispettare Sempre le regole Uno stato Che possiede Tante leggi E continua A farle È corrotto Perché poi Spunta il modo Per aggirarle E poi La scuola Trova casa Provincia Da Vinci Pace fatta Andiamo avanti Sempre sulle pagine Del messaggero Rigopiano La valanga Era prevedibile Cade l'ultimo alibi Quello del 18 gennaio Non fu un evento Eccezionale E a causarlo Non furono Le scosse di terremoto Ieri Ieri il sopralluogo Del geologo Francesco Stoppa Consulente Di parte civile I punti fermi Segnano Una svolta Nell'inchiesta La perizia Richiesta Dall'avvocato Vania Della vigna Contribuirà A delineare Il quadro Delle responsabilità E poi il caso Il prete Sospeso La serenità Perduta Della parrocchia Di Sant'Antonio Dopo la punizione Per le critiche Al papa In molti Rimpiangono La sobrietà Dei pastori Di un tempo Il migliore Fu Don Venturino Di spalla Manca il personale Niente certificati L'anagrafe Al singhiozzo E poi All'Aquila San Bernardino I sottoservizi Non fermano La processione I lavori Nel tratto Davanti alla basilica Saranno sospesi Per il Cristo morto In questo modo Non saranno Necessari interventi Per garantire La sicurezza Alcune zone Centrali Senza acqua Tante proteste E smentito Il legame Con la realizzazione Del tunnel Intelligente E di spalla L'emergenza Scuola E la replica Cialente Al Cotugno Un quadro grave Gli avvocati Che hanno promosso Il ricorso al Tar Rispondono Al primo Cittadino Centrodestra Forza Italia Schiera Liris Noi con Salvini In Contrabiondi E poi Grillini 5 Stelle Tutto ancora Da decidere La storia La piattaforma Ecologica Un processo contabile Per nove Di Benedetto Frena Io già sindaco Solo un riscaldamento Il vincitore Delle primarie Pietrucci Mi sosterrà Come ho fatto io È vero Ho lottato Contro la struttura Di partito Ma non ci sono Sconfitti Il riferimento Il riferimento Alle primarie Che si sono Svolte all'Aquila A sinistra Niente da recuperare Faremo di certo Una vera lista civica E poi Il day after Le strategie Il big del partito Ha pesato il ruolo Di pace Non paga 500 euro Di multa Combinati E ora Chiede il risarcimento Al comune Perché Innocente Fu trovato Con la donna Nella vettura Il cova Ma non c'è prova Di prostituzione E poi Cronaca Sulmona Vandali Distruggono Il parco Fluviale L'assessore Dice subito Affidamento Diretto Porte Di velte Sanitari Infrantumi Sinibaldi Dice custodia Beni pubblici Da salvaguardare A Sulmona Il caso Magneti Marelli Il sostegno Di Landini Ancora Su Avezzano Sottopassaggio Allagato Proteste Contro Il comune A Chieti Musicista Ucciso Il processo In corte D'assise Per Cipressi Ma la difesa Quasi certamente Chiederà Il rito abbreviato Che garantisce Lo sconto Di pena E poi Il caso Di primio Megalot 3 Il giudice È compatibile Il 2 maggio La decisione All'Aquila Per il progetto Invece di Megalot 2 Presto i lavori Contro le esondazioni Di spalla Il randagismo Esplode La rabbia Degli animalisti Niente soldi Nesportello Spese votierinarie Pagate dai cittadini La città resta pure Senza il canile E poi le proposte Il Movimento 5 Stelle Sulla sicurezza Delle scuole Dice Serve il fascicolo D'istituto Ci spostiamo a Lanciano Lo scandalo Asl Verso i rinvii a giudizio Il procuratore Rosaria Vecchi Ha notificato L'avviso di chiusura Delle indagini Che riguarda Nove indagati L'inchiesta è Sul malaffare Con la public lien Di Colasante Arrestato Con la dirigente Dell'azienda Tiziana Spadacini Dall'imputazione originale Esce di scena La falsità ideologica Per le sole Spadacini E pantalone E poi ancora Cronaca A Lanciano Guidava ubriaco Patteggia Il giocatore Bacinovic Avasto Gatti morti E siringhe usate Nel laghetto Del San Paolo Le verifiche Dei carabinieri forestali Stefano Moretti Preannuncia L'esposto In procura A Ortona Il piano portuale Si attende L'ok Del ministero Adatessa Il caso ferie Dalla Sevel Nessuna apertura L'azienda Non raccoglie L'appello Dei sindacati Pure nel 2017 Si chiude Solo Una settimana Ci spostiamo Sulle pagine Dedicate Alla provincia Di Teramo Maggioranza Sbraccia Si defila Non sono Un soldatino Gatti attacca La minoranza Chiedere ora Le dimissioni Di bruchi È dai responsabili E poi Lo spaccio Di droga Indagati In aumento Oltre al carabiniere Il militare È stato sospeso In attesa Di un chiarimento La Popolari Di Bari Ha chiesto Di costituirsi Parte civile Contro L'ex Management Una ragazza Malmenata Dal compagno Perde il bambino Sempre sulle cronache Di Teramo E poi la sanità L'allarme Asla Ci mancano 70 dipendenti A Giulianova Sequestrate Due tonnellate Di marijuana Brillante operazione Dei carabinieri Di Giulianova Che seguendo Un sospettato Sono arrivati Fino a un deposito Ubicato a Fossa Cesia L'arrestato È un 49enne Di origini pugliesi Con precedenti Ma non per droga Il valore della merce È di 10 milioni Di euro I militari Indagano sulla costa Alla ricerca Di possibili complici Ancora su Giulianova La regione Chiude nefrologia E il laboratorio Di analisi E poi è stato approvato Il piano regolatore Per il porto Sempre sulle cronache Di Roseto Ora ci spostiamo Sulle pagine Del quotidiano La città In apertura La conferenza Di Forza Italia Gravi ritardi Su ricostruzione E maltempo I consiglieri regionali Di Forza Italia Attaccano D'Alfonso Il governo Per la mancanza Di risposte E risorse Appare necessario Rimodulare I fondi masterplan In considerazione Delle mutate Priorità Dei territori abruzzesi Colpiti dal sisma Come noi facciamo Per l'Aquila Destinando il 30% Dei fondi FESR Alla ripresa Socio-economica Del cratere La sanità I 5 stelle Contro I project financing Per costruire Gli ospedali Di taglio basso La denuncia Vita indipendente Dice una nuova beffa Per i disabili abruzzesi Sempre meno fondi Stanziati dalla regione In favore del progetto A fronte del milione Di euro promesso L'assalto alla Tercas Il colpo della banda Della marmotta È fallito La volante Recupera L'80% Del denaro Sottratto Al bancomat Di Viale Crispi L'auto dei ladri Trovata al nucleo Industriale Una banda organizzata L'uso di tritolo Da parte della banda Presuppone Una maggiore organizzazione Rispetto ai Recenti furti Il colpo Il rapido intervento Della volante Non ha dato modo Ai ladri Di portare via i soldi Il bottino È stato di poche migliaia Di euro E poi La popolare Di Bari Parte civile Nei confronti Dell'ex DG Antonio Di Matteo Il processo Per la truffa Dei cosiddetti Pronti Controtermine Rinviata a settembre Per lo sciopero Degli avvocati Tre possibili epiloghi Per l'ennesima crisi Stasera riunione Con il sindaco Brucchi Pasqua Bollente In vista del Consiglio Bis Di spalla Tancredi Dice Irresponsabile Gettare Gettare alle ortiche La casa Dello studente Somma urgenza E verifiche Tutto trasparente Dopo le sollecitazioni Il comune Rende noti Gli importi Dei lavori E gli incarichi Affidati Ai professionisti Di spalla Il caso Saracenila Lucarelli Sbeffeggia Il prof Webstar Dell'Università Di Teramo Provincia Il Partito Democratico Zuffa Sui delegati Ai rapporti Con Sottanelli Lo zampino Di Monticelli Sulle liste E la vittoria Di scelta civica All'Aquila Fanno saltare Il tavolo Chiarificatore Il fattore Sottanelli Risultato Aquilano Dimostra Come l'onorevole Abbia la forza Di spostare Molti consensi Luciano Monticelli E intervenuto Chiedendo E ottenendo La modifica Della lista Dei delegati A discapito Di Lucia Verticelli E di Maria Luigia Trivellizzi L'ingerenza Non è piaciuta Al segretario Minosse Ancora politica Stefano Ciccantelli Eletto Coordinatore Provinciale Di Sinistra Italiana Domenica Scorsa Nella sede Della CGL Si è svolto Il primo Congresso Alla presenza Dell'onorevole Giovanni Paglia E poi La Fenice Il centro Antiviolenza Torna Nelle mani Della provincia I carabinieri Sequestrano Due tonnellate Di droga Arrestato Un puiese Che alloggiava Roseto La droga Sul mercato Avrebbe fruttato 10 milioni Di euro E poi E poi Affano Adriano I forestali Sequestrano Una gabbia Dei bracconieri Un viaggio Nel cuore Dell'Italia Linea Verde Racconta La rinascita Dell'entroterra Pasqua La trasmissione Della RAI Documenterà Lo sforzo Per risollevare Il turismo E l'economia Devastati Dal terremoto E dalla neve Pesante La straordinaria Iniziativa Della RAI Per il territorio Del centro Italia RAI Per i terremotati Una campagna Lanciata Dall'azienda pubblica In collaborazione Col commissario Irrani E le quattro Regioni Andiamo avanti Si allarga L'inchiesta Sul carabiniere Sale a 10 Il numero Degli indagati Il militare Coinvolto Nel caso di spazio Intanto è stato Sospeso dal servizio La procura Intanto interroga L'uomo Che ha tirato in ballo Il carabiniere Di Tortoreto E poi su Tortoreto Gatti e Tancredi Puntano Sulla nuova Candidatura Di Calvarese Alla guida Di Fiuggi Doppio incarico Per il commissario Francesco Tarricone A Civitella Del Tronto Prefetto E questore In visita Alla casa Di riposo Bel fuori Programma Durante le celebrazioni Della festa Della polizia Di stato Partito Democratico Figurace Purazioni All'ente porto La guerra Mastro Mauro Incattivisce i rapporti E mostra Il peggio Della politica Giulianova Renzo Di Sabatino Dice brutta La logica Delle purazione Dopo la scissione La lettera Di Mariani E Minosse È un autogol Di spalla La cronaca Rubò All'azienda 400 mila euro 18 mesi Di pena Alla ex Dipendente La sanità La sanità Mastro Mauro Si oppone Al cambiamento Dell'ospedale La chiusura Di due reparti Rinfocola La polemica Sospetto Che dietro Ci sia Un gioco Immondo La ciclabile Di Roseto I lavori Alla pista Procedono A ritmo Serrato Ieri mattina Iniziata La posa Dell'asfalto Nel tratto Nord Che sarà Completato Entro Qualche Settimana Il sindaco Ha detto Ringrazio i balneatori Che hanno dato Una collaborazione Senza riserve E hanno dato Dei consigli Che si sono Rivelati Utili E poi Gli altri lavori Iniziato anche L'intervento Nella zona sud Per collegare L'area del camping Di taglio Basso Notaresco Penso al rilancio Del territorio E non Alle beghe Politiche Il sindaco Di Bonaventura Risponde Alle voci Di un presunto Accordo Tra PD E AP La ciclabile Di Silvi Il ponte Sacrificato Per far passare La pista Pilastri E tiranti Saranno eliminati Per far posta La ciclabile L'opera Da un milione Sarà inutilizzabile Le critiche Fin dall'inizio Della sua realizzazione La pista Ciclabile Di Silvi È stato oggetto Di critiche Da parte Di cittadini Operatori Turistici Un'opera Strategica Sulla ciclabile E sul recupero Del villaggio Si gioca Il futuro Della giunta Comignani A Pineto 5.000 punti luce Sostituiti Con il progetto Paride E poi Ad Atri La storia Di un cane Abbandonato Dentro un bidone Salvato Dalle volontarie Nei pressi Della discarica Cittadina La cultura La scrittura Può essere un destino La vita Sconosciuta Dentello Dice il protagonista Del mio romanzo È vittima Del perbenismo Una settimana Di celebrazioni In nome Della libertà L'iniziativa Promossa Dall'Ampi Di Montorio In collaborazione Con l'Istituto Per la storia Della resistenza Poi la commemorazione L'Ampi Teramo Ricorda I fucilati Di Cartecchio La pagina dello sport La Lega Pro Il Teramo Spighi Potrebbe non farcela Per il Forlì Il centrocampista Quasi certamente Out Sabato pomeriggio Intanto Sansovini Carica i suoi Ci sarà bisogno Di tutti Una corsa La sostituzione Se il mediano Non dovesse farcela Ugolotti Potrebbe optare Per tempesti Senza variare Il sistema di gioco Con la possibilità Di riavere Petrella Per l'ultimo Scampolo Di gara Intanto Ieri esami Per l'ex SPAL Il Teramo Farà di tutto Per riaverlo Sabato pomeriggio Ma non sarà Affatto semplice Recuperarlo E allora Ieri a parlare In conferenza Proprio Marco Sansovini Lo ascoltiamo Ha bisogno di tutti Il Teramo Uno da solo Non fa niente Ha bisogno Del cento per cento Da parte di tutti quanti Chi gioca Chi non gioca Da Veramente Da chi è stato Più utilizzato Deve dare Ancora Le ultime forze Perché dopo un campionato Comunque è stato lungo E è stato faticoso Anche e soprattutto A livello Mentale Perché chiaramente Quando i risultati Non arrivano Diventa tutto Più pesante Sicuramente Fino a quello Che magari è stato Utilizzato di meno Perché Nelle ultime parti Di stagione Poi c'è veramente Bisogno di chiunque Molti definiscono La partita Con il Forlì Come una finale Sei d'accordo? Sì La dobbiamo Credo vivere così Con la giusta Serenità Non tranquillità Serenità Che è diverso Quindi Con la lucidità giusta Però è normale Che Io credo Che arriveremo Ovviamente Alla partita Mentalmente Molto carichi Come è giusto Che sia Perché è una partita Troppo importante Io vedo i ragazzi Che già Parlavamo del Forlì Quindi già siamo In partita Contro il Forlì Perché ripeto È inutile parlare Di quello Che poteva essere Il rammarico E lo sappiamo tutti Che quando si perde Non è raccolto niente Però Però il calcio Ti dà l'opportunità Quasi subito Subito Di Invertire la tendenza E di rifare punti No Tre punti Con 12 disponibili Siamo tutti lì Abbiamo visto Che il Parma Perde con tutto rispetto Con l'Ancona Che è 2 a 0 in casa Che ha 7 punti Di 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 Quindi Siamo veramente Tutti lì Tutti possiamo Rientrare dentro E ora torniamo Sulle pagine del centro Per parlare di serie A E di grandi ex Si parla Di Simone Pepe Io la Juve E il Pescara Riparto da dirigente Pepe si racconta Conte un maestro Vorrei diventare Un DS Ancora Byback Recupera Ma occhio a Cerri Oggi alle 15 Amichevole a Cupello Se il francese Non dovesse farcela Zeman Schiererà L'ex Della Spal Antonio Conte Dice l'allenatore Più forte Che ho avuto Odiava la parlantina Poi Massimo Allegri Ha portato le sue idee Ed è stato bravo A toccare le corde giuste Zenec Zeman Mi ha colpito La serenità E non ha pelli Sulla lingua E l'uomo giusto Tra passato e futuro Da bimbo Volevo fare Il benzinaio Il club manager A fine anno Queste ancora Dichiarazioni di Simone Pepe Gli europei L'Italia chiude Con un pareggio Futsal Le ragazze Del Monte Silvano In finale Allo European Women's Tournament La Liga Pro Sabato Sanzovini Avverte il Teramo Dice col Forlì Sarà come una finale L'attaccante Dice la salvezza diretta 42-43 punti Il giudizio sulla stagione Sicuramente non positivo Andiamo sulle pagine Del messaggero Anche qui si inizia Dalla serie Pagano Dice Pescara Credici L'ex attaccante Il mio gol Che sconfisse la Juve Indimenticabile Nel calcio Nulla è impossibile Ma oggi I bianconeri Sono mostruosi Quest'anno Era iniziato In un ottimismo Che non sempre Si era visto Nell'ambiente Ma quanti Errori sul mercato Bisogna fare In una gara perfetta Sperando che loro Siano distratti Dalla Champions E poi By back Il recupero difficile Oggi il test A Cupello Allegri Pensa a un turnover Massiccio Difesa e mediana Tutta nuova Rispetto alla Coppa I dubbi Ci sono in attacco Per la Lega Pro Sanzovini dice La sconfitta Non lascerà traccia Il bomber è ottimista Contro la Reggiano Un K.O. Imeritato Ma con il Forlì Il risultato Non ci toglierà Le certezze Che questo gruppo Ha finalmente trovato E allora Con lo sport Concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo Che l'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nella prima edizione Alle 14 Invece La rassegna stampa Di mattino 6 Torna Domani mattina puntuale Alle 7 Buona giornata La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegnaipper issima Steph?". Grazie a tutti.